Noi siamo i componenti del gruppo della sezione Avis di San Maurizio che è nato 60 anni fa. Quest'anno infatti festeggeremo i 60 anni è precisamente il 28 di settembre, la festa sarà di sabato, sarà un po' diversa dal solito e diciamo che vi teniamo un attimino lì con la sorpresa perché ci stiamo muovendo a 360 gradi. La sezione come vedete è a parte me i capelli bianchi, ci sono dei capelli neri per fortuna e quindi spero di mollare al più presto a loro le redini. C'è stato un bellissimo incremento l'anno scorso, ci mancavano 4 sacche per farne 500 quindi un buon numero. Tra l'altro sembra che qua nella parte della bassa canavese siamo quelli che ha fatto più donazioni anche come uscite, di fatti erano previste 12 da calendario e noi ne abbiamo fatto 16. Questo significa perché c'è stato un incremento di donatori. Questo bisogna dare atto che ci sono appunto dei giovani ma soprattutto la vecchia guardia che non è andata via, tutti quanti è una bellissima squadra che fa gruppo e ci muoviamo. Questo ha fatto sì che abbiamo raggiunto diversi obiettivi tra cui abbiamo donato dei soldi per la pista di atterraggio delle risoccorso che sarà inaugurata tra poco, quella vicino ai Vigi del Fuoco. Abbiamo donato 1000 euro per le famiglie bisognose di San Maurizio, abbiamo partecipato all'evento Ti Muovi organizzata dalla Polizia Municipale e dall'Istituto Comprensivo di San Maurizio. Quest'anno abbiamo appunto diverse attività in programma e soprattutto diverse cose. La settimana dopo della festa di San Maurizio ci sarà appunto questa festa di sabato. Abbiamo deciso di donare alla popolazione un defibrillatore che sarà installato sotto i portici del comune. Questo è uno delle tante cose che ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo tantissimo però come tutte le cose ci vuole del tempo. Per il momento cerchiamo di fare quello che possiamo e come si dice se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo cominciato l'anno, a gennaio abbiamo fatto 48 sacche. La donazione di febbraio ce ne sono state 39 e stamattina appunto il buongiorno ha voluto che invece di 4 persone ne passassero 6. Cioè nel senso che 4 sono previste per la donazione del plasma invece siamo riusciti a farne passare 6 perché il gruppo 0 negativo come si sa è subito immediatamente non fanno plasma ma lo fanno fare o la piastrino feresi oppure la sangue intero. Insomma ci stiamo muovendo e devo ringraziare tutto il gruppo sia i giovani che quelli più vecchi ma non come età ma come volontariato nella nostra associazione. Ricordo comunque il fatto che noi siamo un'associazione di volontari e quindi tutto quello che possiamo risparmiare lo investiamo appunto per la comunità. Noi ci vediamo orientativamente una volta al mese come direttivo per organizzare gli eventi in sede che è in via 20 settembre 3. Di solito succede alle 9 ed è ogni primo martedì del mese e quindi chi volesse può e che può venire in quella circostanza oppure ci può contattare. Chi vuole far parte della nostra famiglia è il benvenuto. Abbiamo bisogno di persone, giovani, meno giovani ma non importa. L'importante è essere in tanti, questa è la cosa fondamentale. I numeri di telefono li potete vedere in sovraimpressione. Vi ringrazio tantissimo, grazie a tutti i donatori e grazie ai nostri volontari. Vi ricordo brevemente le date, sabato 6 aprile sangue intero, sabato 18 maggio, domenica 23 giugno sempre sangue intero, invece domenica 21 luglio abbiamo il plasma. L'appello è per sabato 3 agosto, chi vuole venire perché come al solito siamo in piena estate e quindi aumenta sempre il discorso dell'emergenza sangue d'estate e quindi è importantissimo fare tante donazioni. Purtroppo ogni anno dobbiamo correre dietro le persone perché ci sono le vacanze. Quindi abbiamo anticipato, abbiamo fatto in modo di far cadere la data proprio all'inizio di agosto in modo che le partenze, si spera che siano un po' più in là. E quindi prima di partire ricordatevi se avete piacere di venire a donare e ricordatevi che ogni donazione che fate non salvate una vita ma tre vite. Quindi poi sabato 21 settembre c'è la donazione di sangue intero sempre, sabato invece 28 ottobre c'è la plasma, domenica 10 novembre sangue intero e sabato 14 dicembre c'è sangue intero. In quell'occasione posso azzardare a fare una previsione, ci sarà come tutti gli anni la consegna del pacco natalizio che consiste nel panettone e qualche altro gadget della nostra sede e magari ci sarà anche qualche sorpresa. Grazie a tutti.